Ciao, grazie! Le associazioni che partecipano hanno indubbiamente colto e capito il senso del messaggio e l'idea partecipativa, questo sicuramente ha portato a crescere via via il feedwalking del cuore, ottenendo poi un risultato importante che è quello che abbiamo visto stasera della consegna dei contributi, quindi quest'anno una cifra decisamente importante perché sono stati distribuiti 60.400 euro e questo è un aiuto tangibile, diretto a quello che è il mondo del non-profit e soprattutto a tanti progetti che toccano le persone più comuni e spesso le marginalità. Quindi ci rivediamo l'anno prossimo, speriamo con un numero ancora superiore. Assolutamente sì, però raggiunti questi numeri aumentare diventerà sempre più difficile, noi ce la mettiamo tutti.